Ciao da Nicola e ciao da Isotta Questo è il nostro modo per farvi gli auguri Quindi mi raccomando guardate questo video Alla fine se vi sarà piaciuto mettete Like se non vi sarà piaciuto non lo mettete No, non lo mettete, non lo mettete Ecco, e mi raccomando se vi piace quello che facciamo Iscrivetevi al canale Ecco, questo è il nostro modo per farvi gli auguri Sigla Ok Isotta, oggi siamo a casa E non in studio No, a casa perché E c'è anche l'anghiero Certo, a casa perché è un giorno speciale Ok Perché? Perché è un giorno speciale? Sì, perché è? Che è? È Natale No, Nico, non è Natale Che dici, Natale, Nico C'è sempre un casino Oggi non è Natale, ti sei sgagnato Sì, ho il periodo, voglio dire Ho capito È il periodo di Natale Sì, è il periodo natalizio Quindi? 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 È un periodo in cui siamo tutti Ma scrittando i regali No No, è lo spirito, no? I regali Vabbè, gli amici I regali L'amore I regali I parenti I regali Siamo tutti più buoni E ti fai i regali Iso, sei sempre così immateriale Non è possibile che tutte le cose le riconduce a quello Iso, non è possibile Allora è vero, Nico, io so profonda Ma che profonda Si, stai sempre a pensare ai regali Nicola, vedi, sei tu che non apprezzi Non è vero che non apprezzo Ah no? Allora ascoltami Eh, vai Musica Che musica? Musica Eccola Oh, è vero Vai Vuoi dire una cosa E dilla, vai Caro Nicola Cari amici Arriva il Natale E se crediate o no La magia è ovunque Delle case Nei cuori Delle garzoni Delle strade E nei cuori Delle sceglie Allora basta Coco Per sentirlo dentro Un gesto Una colazione Perché il Natale Non è solo fatto di cose materiali È uno scambio di attenzioni E di amore Oh E allora Con il cuore A te che guardi Tanti a cuore Bello E a te Nicola Eh Tanti a cuore Oh, carino Eh Perché Nicola Eh Non c'è un'occasione Migliore Che dire a qualcuno Che c'è vicino Eh Che gioco i cani Vero Vero Nicola Eh Ti voglio bene Che carina Grazie Grazie Vedi che so C'è una cosa Se hai detto una cosa Bellissima Sei stata meravigliosa E allora Nicola Nina Hai detto tanti regali Ecco, vedi Vedi, torni sempre là No, ha detto una cosa bellissima Allora facciamo una cosa Se ci guarda Diciamo giù insieme Tanti a cuore Tanti a cuore Una cosa dici Ma te ne manchino Non c'è come la Eh beh, giustamente Ciao Ah, una cosa Se volete farvi un regalo Iscriviti al canale Esatto Così verrete informati Quando pubblicheremo nuovi video Ciao da Nicola E ciao di Santa E tanti a cuore A canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti